Fermata delle porte principali Si abbraccia con l'effetto del motore agendo su un apropico volantino ricordando l'indice di riferimento sull'indicazione dell'avvento Si agisce sulla manopla del reoscato in modo da rinforzare il trattato in modo da rinforzare il trattato in attenzione di avvento il numero di parte della sala Si apre sul capo l'intero corretto che manda a favore per la fermata della pompa a radio si abbraccia con l'effetto del motore agendo di un'area di comando Grazie